Non mi sono mai sentita una ragazza straordinaria. Questo per me voleva dire avere la fortuna di fare tutto quello che fanno le persone della mia età, quindi uscire con gli amici, andare alle feste, viaggiare, studiare. Eppure, all'improvviso, lo straordinario piomba violentemente nella mia vita il 9 settembre del 2020. Quel giorno, un giorno apparentemente normale, mia sorella Margherita, la mia compagna di giochi e di sorrisi, parte per una gita in montagna, mette un piede sbagliato su un sentiero e se ne va per sempre. Da quel giorno ho imparato che azioni sempre apparentemente normali mi richiedevano invece una forza straordinaria. Questa forza fa sì che io da due anni a questa parte viva ogni giorno come su delle montagne russe, con emozioni intensissime in cui ogni momento di gioia precede, segue o è causa di un momento di tristezza e viceversa. In questi due anni mi sono chiesta spesso come sia possibile che però io sia riuscita ad andare avanti. Sono stati due anni di dolore allo stato puro, molto spesso, eppure in questi due anni sono riuscita a laurearmi, ho conosciuto persone nuove, ho fatto esperienze nuove di cui porto ricordi bellissimi. Così come non mi spiego come sia possibile che su un sentiero di montagna percorso da centinaia di persone, proprio mia sorella, proprio quel giorno, sia caduta e se ne sia andata dalle nostre vite in pochissimi secondi, così non mi so bene spiegare come è possibile che io oggi sia qua a parlare di questo. Non posso quindi spiegarmelo in modo razionale, ma posso trovare dei pilastri di quella che è la mia vita nuova, che è iniziata appunto quel giorno. Quel giorno all'ospedale di Lecco, guardando i miei genitori affrontare il loro incubo peggiore, insieme noi tre abbiamo deciso di andare avanti e guardare avanti. Credo che questa sia una caratteristica insita dell'essere umano ed è sicuramente il primo pilastro di quella che è la mia vita nuova, che non ho potuto scegliere ma che ho ricevuto. Siamo riusciti appunto a guardare avanti, a non fermarci e di certo non è stato solo questo che ci ha salvato. Il secondo pilastro della mia vita nuova è il potere della memoria. Mia sorella continua a essere presente nelle mie giornate tramite centinaia di ricordi, di ricordi belli così come di ricordi brutti. Non passa giorno che non inizi senza che io la pensi e a volte appunto nella nostra stanza giocare, ridere e scherzare, a volte purtroppo in quel letto di ospedale. Questi ricordi, soprattutto i ricordi belli dei momenti passati insieme, sono il motore che spinge i miei passi verso il futuro. E credo che in un modo quasi paradossale questi primi due pilastri siano legati. Il fatto che io oggi sia qui e che nella mia vita presente, così come in quella futura, drammaticamente mia sorella non c'è più, siano resi possibili dal fatto che c'è stata, dal fatto che il rapporto così bello che abbiamo avuto definisce in gran parte la persona che sono oggi, mi permette di essere qui e di fare tutto quello che riesco a fare. Fino ad ora ho parlato di me e di quello che io ho potuto fare per me stessa e per rialzarmi, ma se sono qui oggi non è di certo solo merito mio, è merito anche di tutte quelle persone che mi hanno accompagnato sul mio cammino, quindi a mia famiglia e i miei amici. L'incidente di Margherita ha rappresentato anche per loro una grandissima sfida e lo so, l'ho visto sulle loro facce il giorno del funerale e lo vedo spesso. Eppure non mi hanno mai abbandonato. E non mi hanno mai abbandonato perché a volte basta proprio così poco, basta riuscire a chiedere aiuto a qualcun altro e uscire dal guscio che giustamente noi tutti ci creiamo, ma che una volta tolto può davvero aiutarci a renderci migliori. I miei amici sono le persone con cui ho scelto di camminare e non mi hanno mai deluso, ma non sono gli unici nella rete capillare di relazioni che ad oggi mi aiuta a rimanere in piedi. Infatti ci sono due categorie di persone davvero straordinarie e sorprendenti che sono gli amici di mia sorella e gli amici dei miei genitori. Gli amici di mia sorella al giorno dell'incidente hanno chi 17, chi 18 anni. Cinque giorni dopo iniziano la quarta, la quinta superiore. La loro vita è tutta all'inizio. Siamo alle prime uscite con gli amici, le prime vacanze. C'è chi prende la patente, chi pensa all'università. Eppure questa cosa terribile colpisce anche loro. Loro però sono sempre riusciti a darmi la forza di andare avanti tramite la loro insistenza, la loro presenza nelle nostre vite e continuare a frequentare casa nostra, continuare a mettere sui social delle foto di Margherita e continuare ad avere quel sorriso con il quale io, da sorella maggiore, li ho visti crescere. Tutto questo appunto mi ha dato una forza straordinaria. Gli amici dei miei genitori sono una categoria un pochino più difficile da inquadrare. Sono quegli adulti di cui noi giovani spesso diffidiamo. Eppure per me da quel giorno sono una parte fondamentale della mia vita. Molti di loro sono diventati come dei genitori adottivi. E' sulle loro facce, probabilmente prima che su quelle dei miei genitori, che ho capito la gravità e la comprensione adulta di quello che ci era realmente successo. Sono loro che hanno tenuto il nostro frigorifero e la nostra casa piena per tutti i mesi, subito dopo l'incidente, e che non ci hanno ancora mollato neanche di un millimetro. Sono loro che si interessano continuamente ai miei piani, mi fanno complimenti per cose che io non ritengo neanche degne di complimenti e che mi fanno pensare davvero che ce la posso fare e che posso andare avanti. Soprattutto sono loro e il loro contributo che ci ha aiutato a mettere in piedi due progetti Il ricordo di Margherita ad oggi attivi. Il primo progetto è per me una vera e propria magia. E' un coro in cui cantano insieme volontari e ragazzi portatori di handicap. Ci piace chiamarlo un arcobaleno di voci perché ognuno di noi ha il suo colore e tramite la musica e l'interazione con gli altri può esprimersi senza vergogna. Il secondo progetto è stato reso possibile tramite una parte fondamentale della vita mia e di Margherita che è l'esperienza Scout. Insieme ai ragazzi del nostro gruppo abbiamo rimesso in uso una canonica abbandonata sopra l'uino ed è un posto che oggi davvero sentiamo di poter chiamare casa. Per noi, per i ragazzi oggi membri del nostro gruppo, per i ragazzi che arriveranno e per tutte quelle persone che credono nell'amicizia e nello stare insieme come fondamenta di un progetto di vita e di un progetto educativo. Per concludere, sento davvero che questa mia esperienza di vita straordinaria che assolutamente non ho potuto scegliere ma che mi è capitata meriti appunto di lasciare qualcosa a tutti ed è la consapevolezza del fatto che lo straordinario è davvero dentro di noi che può essere rianimato da eventi che non devono essere ovviamente drammatici e che però ognuno di noi può davvero essere protagonista della sua vita basandosi su questi che credo siano i tre pilastri quindi la capacità di guardare avanti, la forza del ricordo e l'affidarsi a una rete di relazioni presente da sempre nelle nostre vite. Grazie a tutti.